E' uno dei più importanti saloni nautici del centro-sud Italia. Si tratta di Sottocosta, che la Camera di Commercio di Chieti e Pescara organizza per la sesta edizione. Ancora una volta al Marina di Pescara, il porto turistico del capoluogo adriatico. Il salone è dislocato su un'area espositiva che conta 4.000 metri quadrati tra indoor e outdoor. Oltre all'esposizione alla vendita di barche e a tutto ciò che ruota intorno alla nautica, Sottocosta ha in programma circa 40 eventi che si snoderanno nei quattro giorni di manifestazione. Dopo tanti anni di grandi difficoltà ormai ha traguardato un risultato positivo. Già dal 2018 abbiamo recuperato, il settore ha recuperato quello che aveva perso negli anni precedenti, ritornando quasi ai livelli del 2009 e le previsioni del 2019 sono anche se ottimistiche. Noi abbiamo pensato e ripensato anche questa manifestazione che per noi è un fiore all'occhiello. Per il sesto appuntamento di Sottocosta ci sono partnership di altissimo profilo con una fitta rete di appuntamenti a cura della Lega Navale e della FIV. Non ci sono molte fiere nautiche, ormai in Italia ce ne sono poche, noi nel centro adriatico siamo l'unica, in adriatico ci sarà a giugno dove parteciparà, ovviamente anche lì a sonautica come in tutte le altre, a Venezia, ma dopo non c'è più nulla. Pensiamo a meno di ultime notizie, di ultimi eventi anche sulla costa di fronte, quindi anche in Croazia non ci sono manifestazioni del genere. Porto Turistico Marina di Pescara al centro di questa iniziativa, vogliamo un po' spiegare nel dettaglio che cosa vedranno i visitatori. Un evento che tende a risvegliare l'amore e la passione nei confronti della nautica, quella minore, che è quella un po' alla portata di tutte le tasche e che vuole anche un po' sconfiggere questo stereotipo del fatto che la nautica sia un'attività dedicata solo a chi ha il portafoglio pieno. In realtà non è così, il modello dei paesi nord-europei da questo punto di vista è emblematico. In tutte le famiglie c'è una piccola imbarcazione per andare a fare una passeggiata la domenica o per godersi il mare.